La Svizzera è al cuore dell'Europa. La bellezza delle sue Alpi è nota ben oltre i suoi confini, eppure le Alpi sono anche un ostacolo al traffico. Con Alptransit il popolo svizzero ha deciso la costruzione di un collegamento ferroviario ultramoderno attraverso le Alpi. L'obiettivo è rendere possibile il trasporto delle merci attraverso le Alpi per ferrovia invece che su strada. Grazie alle tre gallerie di base del Lötsberg, del San Gottardo e adesso del Ceneri, il transito attraverso le Alpi diventa più veloce e la tratta ferroviaria pianeggiante è più efficiente. Ampliamenti sulle tratte di accesso e misure di risanamento fonico consentono alla nuova ferrovia di pianura di guadagnare in termini di efficienza e accettazione. Grazie ad Alptransit e ad altre misure, ogni anno la Svizzera evita già circa 800.000 transiti di mezzi pesanti. Due terzi delle merci sono trasportati su rotaia attraverso le Alpi svizzere. La Svizzera non ha realizzato Alptransit solo per se stessa. Alptransit è il polmone del più importante corridoio merci europeo che collega i poli economici in Olanda, Belgio e Germania con quelli italiani. Già oggi questo corridoio ferroviario non è secondo a nessun altro in Europa per la quantità di merci trasportate. Secondo le previsioni il volume del traffico merci continuerà ad aumentare sensibilmente. Alptransit consente trasporti merci più veloci ed economici. Nel traffico viaggiatori si riducono i tempi di percorrenza. Con la galleria del Ceneri il polmone del corridoio ferroviario europeo è completato, in tempo e con la massima qualità. Le imprese ferroviarie e i trasportatori possono ora utilizzare a pieno Alptransit dando prova di qualità, puntualità e affidabilità. Il Ceneri è pertanto al contempo una fine e un nuovo inizio. Approfittiamo di tutti i vantaggi che offre Alptransit. Per i clienti, per la popolazione, per l'ambiente, per il futuro.